Ultime notizie su Rosso Neira. Vi farà cadere le braccia per le novità annunciate. Ma prima di dirvelo, vorrei che vi abbonaste per ricevere tutte le ultime notizie dal Milan. Secondo quanto riportato, il Milan ha un osservatore che segue da vicino i progressi della stella emergente del Boca Juniors, Aaron Anselmino. Anselmino ha giocato solo cinque partite con la prima squadra del Boca e sta già attirando l'interesse di alcune, delle migliori squadre europee che hanno osservatori presenti in Sud America. Secondo TYC Sports, gli osservatori del Manchester United e del Milan lo stanno seguendo da vicino, hanno già chiesto informazioni su di lui e stanno pensando di fare un'offerta. Nonostante ciò, il rapporto afferma che il Boca è tranquillo e non teme una possibile partenza nel prossimo futuro. Anselmino è entrato a far parte delle giovanili del Boca all'età di 12 anni e ha fatto la gavetta, diventando da poco titolare in prima squadra. Il diciottenne gioca principalmente come difensore centrale e, sebbene non sia stato convocato per l'Argentina a livello giovanile, potrebbe essere convocato se continuerà a giocare regolarmente in prima squadra. Il Milan ha alcuni dubbi sul reparto difensivo in vista dell'estate, come la permanenza di Simon Chiaere e la possibile cessione di uno dei big, ma vista l'età e l'inesperienza, sembra che Anselmino sia un altro acquisto per il futuro. Ora tocca a voi, se pensate che sia un buon affare, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi al canale per ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan.